fai vedere quello serio si è incastrato aspetta un attimo te lo do adesso aspetta basta mi chiami a me coglione ma non così 3 2 euro si alzava a me questa perché il mio l'acqua di un mercato questo è il mio da è il mio non c'è l'arma è la rompe di quello che è quello è mio bello ti saluta è andato ti sta salutando ma da mutafone non facciamo così cosa succederebbe se noi togliessimo il telefono all'ello facciamo questo esperimento ti lascio una settimana senza cellulare ti lascio vogliamo fare un esperimento sociologico voglio capire tu per una settimana senza cellulare cosa faresti nudo è chiaro cosa faresti saresti lontano dalla società quanto è diventato importante per te il cellulare assai perché mi comunico con le persone no no ma sono indietro di meritare dimmi qualcosa che mi possa permettere di ridarti il cellulare perché mi devo comunicare con te già così mi sta fregando non mi convince del tutto amiche del convegno dammi cellulare mio da non passati però almeno cretino dai ti saluta è che 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 ti sono noti pero no non sto perché dovrei d'altro dammi una buona ragione per gli anni sempre mi sono perché mi devo comunicare con te e con gli altri che sono E anche per Piemonteschi mi collego, è con Avellino, che mi serve, che mi chiamano. Rispondo io, gli dico che in questo momento non hai il cellulare. Sono il segretario di Lello. Sono il segretario di Lello. Risponde la segreteria telefonica di Lello Laforgia, lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Da, da, dammi, dammi, non rompere. Ma cosa fai? Mi serve. Col cellulare che fai? Tutto, da. Tutto cosa. Il bagno con il cellulare. Tutto cosa. Che fai con il cellulare? Voglio sapere che fai con il cellulare. E dammelo! Sono in condizione di chiedertelo perché ora io ho il cellulare, ce l'ho, potrei andarmene via e ti lascio senza il cellulare. No, mi chiamo il cellulare. Perché è diventato così importante per il cellulare? E perché comunque quella persona è anche con te, pure. E perché, allora dopo non mi rispondi pure, che mi metto preoccupato, da, dammi. Da. Ci stava riuscendo, ragazzi. Da, dammi. Dai, non vale il cretino, dai, che mi serve. Parola d'ordine, parola d'ordine. Dimmi la parola d'ordine. Da, dammi ciò, dai, dai. Non vale il cretino. E qual è la parola d'ordine? E una, è semplicita. Per piacere. Ti. A posto. Aspetta. 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 Aspetta.